Raga, prima di entrare dentro nel discorso Giroud e Ibrahimovic, una piccola parentesi, perché poi sapete come la penso di De Ketteler. Ieri De Ketteler ha rilasciato un'intervista e giustamente si dichiara deluso di come sta andando la sua stagione, di quello che sta dando al Milan dalle sue spiegazioni, dice cambiamento, cambiamento anche nella sua vita privata, perché giustamente un conto è essere in Beggio con la mamma, la sua famiglia, la fidanzata e quello che è, un conto è essere a Milano. Detto questo ce ne siamo resi conto tutti, tanto è deluso lui, tanto siamo delusi noi come tifosi da lui perché è stato il massimo investimento del Milan per questa stagione e sta andando davvero davvero male. Un giocatore che per noi oggi è inutile, è anche schierarlo, anche solo pensare di schierarlo in una delle partite col Napoli, mi viene il mal di testa. Però non ci resta che dargli tempo, io oggi vi dico che è un vidone nell'umido, però spero di sbagliarmi, spero che nei prossimi anni esploda il talento che Maldini e Massara hanno visto. Andiamo sul discorso di giornata, Oliver Giroux, Oliver Giroux ieri deve essergli arrivata un'offerta del Paris Saint Germain, almeno così dicono i giornali, un'offerta che mi lascia un po' di stucco perché mi dico al Paris Saint Germain, Giroux, a che serve con tutti gli attaccanti che hanno. Dall'altro lato se dovesse essere vera e Giroux accetta, ci sta, tornerebbe in Franza, va in una grande squadra, fa gli ultimi anni della sua carriera, va bene, in panchina ma coperto d'oro. Ci può stare, a me è un po' preoccupa perché, raga, con Cardinale, con questa gente qui come proprietari, va bene, noi vogliamo cambiare Rebic, poi Savavia Leao, anche Leao, Ibra, Orighi e poi cambiare quattro attaccanti non è che è semplice, non è che abbiamo i soldi per fare tutto il reparto offensivo, come vorrei io. Quindi almeno partire da Giroux andrebbe anche abbastanza bene. Vedremo quello che deciderà lui perché alla fine lui è sempre sostenuto di stare bene a Milano, di vorrei restare nel Milan, tutto questo però prima che gli arrivasse questa offerta. e poi sinceramente per un giocatore come Giroux è stato anche un po' offensivo aspettare tutto questo tempo per trovare un accordo sul rinnovo. Anche se capisco la società, le pretese di Olivier Giroux all'età di Olivier Giroux non ci stanno, ma se tu hai dato 4-2 a Orighi è normale che Giroux ti chiede almeno gli stessi soldi. Diverso il capitolo di Zlatan Ibrahimovic, come ho messo nel post stamattina Zlatan Ibrahimovic, leggere il suo libro ti viene davvero la pelle d'oca. Per noi è stato un giocatore fondamentale, importantissimo. L'amore che nutriamo noi tifosi per Zlatan Ibrahimovic sarà per sempre immenso. Però ora basta. Cioè io sentire che gli si voglia proporre un altro anno di contratto o anche solo il pensiero di voler provare a fargli fare un altro anno di contratto. Io dico basta. Basta. Perché tanti dicono Ibrahimovic è importantissimo all'interno dello spogliatoio, stimola i ragazzi, stimola l'ambiente. Ok? Deve essere l'allenatore a stimolare. Deve essere lui il portabandiera del Milan. Non il giocatore singolo. Deve essere l'allenatore che carica i ragazzi. Non Ibrahimovic. Ibrahimovic deve essere il giocatore. È arrivato alla sua età giustamente. Non ce la fa più. Io l'ho visto con l'Udinese. Era un paletto in mezzo al campo. E non è giusto neanche per lui. Nonostante lui abbia tutta la voglia di continuare. Lui se vuole giocare deve andare a giocare in Svezia o in campionati minori. Ma nel Milan è finito un ciclo. Detto questo io non mi priverei mai di Zlatan Ibrahimovic. Mai. Però non come calciatore. Gli metterei un ruolo da allenatore della primavera, da vicepioli, da dirigente accompagnatore del Milan. Anche lì può caricare la squadra. Gli farei fare il ruolo che aveva Boban. Qualcosa in società lo troverei per Zlatan Ibrahimovic. Perché è una risorsa in più per il nostro Milan. Però raga. Io non so cosa ne pensate voi. Ma non più come calciatore. Iscrivetevi al canale. Pollice in su e mezzo nero. Buona giornata a tutti. È la settimana di Milan-Napoli.